Grazie a tutti Il primo di sostegno per se stessi e le famiglie Diversamente li rivolremo Noi siamo nelle fabbriche, nei territori per lavorare Non abbiamo lavoro Ed oggi Ica si ha trovato i soldi per evitare i licenziamenti Ha una legge pensionistica che sta penalizzando l'occupazione dei giovani Oltre che quelli che sono al lavoro Che ci ascolti, che torni a parlare con i sindacali